Ciao, sono Matteo e il mio lavoro è giocare ai videogiochi. Cosa consiste giocare ai videogiochi? Mi alzo la mattina, accendo la mia telecamera, accendo il computer, il programmino per registrare dalla console e inizio a registrare i miei video, cercando di essere me stesso, più me stesso possibile. La difficoltà iniziale era quella di fare questa cosa e cercare un lavoro in contemporanea e quindi dividere la vita in due. A noi ci piacciono i videogiochi, a me sinceramente, personalmente, mi piace magari intrattenere le persone. Mi piace magari che qualcuno vede il video e ride. Quella è la soddisfazione più grande, penso. Quando sali su un palco davanti a 2, 5, 7 mila persone, credo che qualsiasi persona sulla faccia della terra si senta emozionata, comunque presa da questa cosa. I ricordi felici sono alla fine di quelli delle fiere, perché incontri persone che magari incontri tre volte perché vengono in vita tua, perché vengono a tre fiere, però comunque tutte e tre volte ti salutano e ti chiedono la foto. Però ecco, non solo le fiere, ci sono anche cose che tramite appunto giocare ai videogiochi o comunque il tuo successo che hai tramite YouTube ti porta poi a fare appunto questa piattaforma. Essendo un grandissimo appassionato di auto è stato sicuramente una grandissima soddisfazione poter guidare una Lamborghini, posso dire tramite YouTube. YouTube, oltre a darti il lavoro, ha anche la possibilità di conoscere persone che altrimenti non avessi mai conosciuto. Con le quali tutt'oggi condivido tantissime cose, sia dai video che dalle fiere, ma anche semplicemente da un'amicizia, quindi dal vedersi per andare a prendere una birra o a fare una partita di calcetto. Grazie a tutti.